E oggi è un modo un po' particolare, Lucrezietta Nazionale, CDA con quello bravo, prima confessione, poi già chiamato le grandi aziende, fanno i CDA sabato a mercati chiusi. E allora Barak mi ha detto, Prenzer, dobbiamo fare un nuovo metodo, dobbiamo interagire in maniera più giovanile, più giovane per uscire dalla crisi. Ti puoi collegare, mi devo offrenza, e ho detto sì Barak, vai avanti tu, parla tua, Barak, vai e vai bene. Barak, è bello, questo è un po' particolare, dai, dai, è un CDA, andiamo a passare così, a mercati chiusi, sì. E' un CDA, sono la novità, basta strisciare la notizia, ci va con i pretz, the line, la mia conferenza, i pretz black, i pretz white, no matter what you are, no matter if you are black, you are white. A mercati, secondo me sto male, Barak ha convocato il CDA, io, di sabato a mercati chiusi, ma i matti dei barak, il concetto è tuo. Quando mi prende te parola, dai pretz, bella per te, sei grande pretz, ciao, la pretz entra ora, ciao, ciao. Bella, bella pretz, se potremmo fare una posizione, è cavana per tutti pretz, scialla. Ok, davvero, 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 patria di riempio, no, sembrano, la retrogia, nicchiazze. E' un po' il pubblico, e che gli dico? Secondo te sto male, ci piace giocare, ci piace, però, chi lo sa, forse dobbiamo levare un po' di fuligine, un po' di fumosità, da certi meccanismi antichi, che non se ne può più, no vestito da magliaccio, no institutional ambient, very, very. Si può lavorare così, si può lavorare un po' meno, magari, però, io ho la vita, no? Domani, se si sento, una coperta per capirci, io ho la vita, bella per te, ma ragazzi, sei grande.